Noi andiamo con una lista, e sì, è più facile farne dieci, perché? Perché ogni candidato porta dieci voti dei cugini, alcuni secondo me manco quelli, però diciamo di base dieci li porti e allora dici sai che c'è? Più sono meglio è, c'è un piccolo dettaglio, che ci metti tutto il contrario di tutto, che vai dal figlio di Romiti ai marxisti per Gualtieri, e come governi poi dopo? E di più, cosa gli dai in cambio? Perché quelli hanno speso soldi, hanno fatto la lista, gli dai un posto nelle municipalizzate? Gli dai un posto nei consigli di amministrazione? No, non funziona così, noi abbiamo una lista di persone perbene che vengono sia dalla politica avendo amministrato, sia da fuori la politica, è una lista civica che condivide un programma e ha un'italietà di intenti, rischia di prendere meno voti? Dipende da voi. Io comunque non faccio una cosa che non mi mette in condizione di fare il sindaco di Roma seletto.